A Timo Lundi, in direzione su, cercando l'altra strada che ci ha portato qui, e che non faccia la rinunzione, ci disse il cuore e il porta, ci sono due idee. Siamo umani, siamo umani, non può andare così, e poi quello si è un uomo, cazzata anche con noi, ci scusa per la storia, ma non ce ne va a rinunciare, e poi tutto il resto, il giorno non c'è, non sono le progresse, la gloria di riozzina. Siamo umani, siamo umani, non può andare così, e siamo umani, solo umani, non può andare così. Siamo umani, siamo umani, non può andare così, Siamo umani, solo umani, non può andare così. Siamo umani, solo umani, non può andare così. Siamo 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 umani. Siamo umani. Siamo. Siamo.